Il loro buon anti-successo conquistato domenica scorsa ai danni del paceco, tra vitto per 5-0 ed il conseguente pareggio ottenuto dalla San Cataldese in trasferta contro la Profavara ha permesso al Gela di riconquistare la vetta del girone A del campionato di eccellenza. Adesso sono in tre a guidare la gradutoria, oltre ai biancazzurri del tecnico Toto Bruculeri e alla stessa San Cataldese c'è anche il Dattilo Noir che dopo un periodo di appannamento ha ripreso a vincere. Dunque lotta a tre per il salto di categoria, almeno per il momento. Il Gela deve continuare di questo passo, soprattutto in trasferta, perché è proprio fuori dalle muramiche che i risultati sono altalenanti e la dimostrazione la si è avuta accammarata 15 giorni addietro, un pareggio che ancora è difficile da digerire. Comunque l'importante è che Bonafini e compagni abbiano ripreso la strada maestra. Contro il paceco non c'è stata storia, un pocherissimo che la dice lunga sulla forza del team gelese. Quando è in giornata il Gela non ha paura di niente e di nessuno. Intanto i complimenti alla squadra, tanto cara al presidente Angelo Tuccio, giungono direttamente dal tecnico del paceco Massimiliano Mazzara. Il Gela è una squadra quadrata, forte in tutti i reparti, una squadra che io già l'avevo visto bene sia all'andata che è stata l'unica sconfitta che non abbiamo avuto in casa, anche se allora sicuramente non lo mettevamo con la sconfitta perché il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Oggi invece non c'è stata partita, sin dall'inizio una squadra che voleva vincere la partita l'ha messa subito bene. Il Gela penso che tra Gela e San Cataldese, Dattelo se la giocheranno fino all'ultimo. Però da quello che ho visto oggi penso che il Gela forse è un tantino in più più sopra delle altre. Sicuramente ha un rostro di giocatori notevole di categorie superiori. Quindi incontreremo una squadra che sicuramente punterà a vincere il campionato e io penso che la vincerà.